salve a tutti salve io sono ciubechina scusate mi stava per venire il tedesco perché di solito parlo tedesco però per essere un uccello insomma parlo bene l'italiano comunque mi dissocio da tutte le cose amorali che lei sta per dire e come al solito visto che è moda me ne vado stile san rimo e niente se ne è volata via ecco così mi si vede vero bene siccome ho ricevuto ben otto like che siamo vicini ai 10 è stato bene che la mia lavagnetta mi poteva aiutare qui c'è scritto in tedesco che vuol dire mi è caduta una pietra dal cuore quando praticamente fai un esame e lo passi che è molto difficile puoi dire che ti è caduta questa pietra dal cuore non hai più questa questa cosa che ti grava e lo dicono anche in repubblica cieca quindi fantastico e io volevo togliermi una piccola pietra dal cuore diciamo dei macigni dalle scarpe in quanto volevo parlare di alcune cose che mi hanno dato molto fastidio nel corso degli anni inizio a scrivere gli uomini italiani ma non tutti all'estero e sì perché qualcuno li ha dovuti pur sopportare io per esempio sottolineiamo proprio due volte anche all'estero perché non voglio che si dica ce l'hai con tutti all'estero spero che si veda anche pochettino più avanti gli uomini italiani all'estero dunque cosa succede appena un uomo italiano va all'estero diciamoci anche un po di struttura no e vede una fanciulla chiunque sia questa fanciulla qualunque cosa faccia improvvisamente diciamo che possiamo disegnare una lampadina proprio si ringallunzisce tutto cioè proprio cioè proprio succedono le tormenta diciamo ed è una roba incredibile perché poi cosa succede che l'uomo italiano inizia a parlare e lì sono cazzi lì sono veramente cazzi perché praticamente quello che dice è il problema non è che inizia a parlare o si ringallunzisce chi se ne frega se gli piacciono le belle ragazze anche a me piacciono i belli uomini il problema è quello che dice iniziamo con raccontare tutto quello che dice che sarebbe da denuncia le donne italiane se la tirano ho scritto di merda perché questa è la mia calligrafia naturale cioè questo è come scrivo io se non mi devo controllare le donne italiane se la tirano se io devo scrivere scrivo veramente peggio dei dottori comunque le donne italiane se la tirano e tra l'altro la cosa è stata pure detta da un cinquantenne di merda cioè un pelato di merda che aveva pure una sorta di voglia qua era mostruoso che si metteva litri di profumo venendo in ufficio quando doveva andare a fare il puttantour del venerdì perché lo si sapeva cioè il venerdì arrivava prima lui e poi il profumo una roba che neanche una donna top model farebbe e mi ha detto che anche lui va a dire in giro che le donne italiane se la tirano con cinquant'anni tra l'altro complimenti per la maturità tra l'altro questo vecchio puttani era circondato da persone che erano più o meno come lui perché chi si somiglia si piglia come si dice no? e infatti dobbiamo subire questa cosa che le donne italiane se la tirano lo vanno a dire ovunque cioè lo vanno a dire in Germania lo vanno a dire in Repubblica Ciclo lo vanno a dire ovunque e c'è una domanda a questo punto della sottoscritta dove sta l'autocritica? dove? dov'è l'autocritica? cioè questa sconosciuta? se tu bene vedi una donna iniziano le tormente la lampadina fa contatto ci sono il canto degli angeli non fatemi disegnare un angelo vi prego alla madonna vabbè facciamo l'aureola soltanto l'aureola tu puoi fare qualunque tipo di porcata noi no poi vanno anche a dire in giro che le donne italiane sono le più grandi maiale questa cosa è stata scritta perché siamo credo numero due tra le prostitute in Svizzera dicono queste cose innanzitutto io vorrei sapere chi ha chiesto i documenti alle prostitute in Svizzera se sono in Svizzera tra l'altro non mi ricordo neanche più e la cosa più divertente è che c'era un ragazzino di 15 anni credo che me lo viva a scrivere ovunque che siamo delle cesse solo perché sei italiana cioè l'equazione è questa tipo aspettate ve lo spiego nel modo più scientifico che posso io non sono un genio quindi farà schifo i matematici mi tireranno le pietre allora if se donna cioè praticamente questo donna come potremmo mettere? come un integer come un facciamo che la donna è un booleano quindi devo definire una variabile booleano scusate sto sbagliando tutto bull è uguale a donna abbiamo definito la variabile booleano praticamente if donna uguale uguale italiana segue che praticamente ci sono 5000 insulti tra cui tu dai una variabile definita come racchia e praticamente ripeti questo ciclo ci metti un bastardissimo ciclo while che lo ripete all'infinito cioè praticamente noi donne italiane siamo delle racchie da qui fino alla notte dei tempi cioè tendiamo con tendiamo alla racchietudine al 100% all'infinito addirittura per un tempo compreso tra il tempo 0 quindi la notte dei tempi prima dei dinosauri ancora prima di esistere noi eravamo già racchie fino al tempo infinito cioè andiamo da 0 più infinito con un incremento della racchietudine che va con gli anni perché siccome non siamo più sottomesse e quando questo qui è andato a dire a Elena racchia, racchia, racchia questa gli ha detto alla prossima racchia ti prendi una denuncia quello è sparito allora io volevo chiedere una domanda volevo fare una domanda scusate dove sta il tuo orgoglio dove sta il tuo orgoglio che tipo di uomo sei scusate per la dimostrazione di matematica che fa schifo ma io sto cercando di studiare il C-Sharp e mi è venuto un po' male d'altra parte non ho preparato niente sono andata così a fantasia è già un miracolo che non sia successo un casino perché i miei appunti di matematica erano praticamente delle guerre civili quindi dove sta il tuo orgoglio e a questo punto ci potiamo chiedere come fa il tipico uomo che fa così all'estero con le donne e fa così in patria con noi e comunque ci sputtano pure all'estero come fa lui quando veramente la vita lo sottopone a prove per esempio analizziamo la situazione nel caso in cui la temperatura sua corporea sia superiore al 36 gradi e 8 centigradi 36 gradi e 8 è la temperatura normale supponiamo facciamo una dimastrazione per assurdo supponiamo che la sua temperatura sia 37 gradi punto 1 centigradi sempre no? cosa succede in questo quando questa temperatura si alza per il nostro eroe no? cioè cosa succede allora di solito potremmo chiamarlo una tragedia però io sono un animale scientifico e devo sbrigarmi perché proprio devo scappare però cosa succede? prima cosa la mentele la mentele proprio la mentele diventa intrattabile intrattabilità nervosismo e credo che inizi anche a fare testamento perché sta morendo di fronte a tutti questi sintomi c'è una domanda che mi sorge spontanea siccome avete la resistenza al dolore di una mozzarella ad essere gentili chi cazzo siete voi per giudicarci sono stata gentile perché mi veniva da dire per sputtanarci chi cazzo siete voi per giudicarci quindi c'è qualcuno che finalmente ha reagito questa cosa del tiraggio perché secondo alcuni era perché abbiamo troppa acquisito troppa indipendenza allora io dico una cosa una donna ha ucciso ogni tre giorni il 20% in meno di paga se abbiamo culo poi dipende dai paesi in Romania c'è una differenza minore ho visto 5% qualcosa del genere dove sta tutta questo culo considerato che io soltanto perché sono una donna devo prendere di meno di stipendio non ho neanche i figli non ti rompo neanche i coglioni con i mocciosi non ne voglio neanche ho già quasi 40 anni non ne avrò credo proprio quindi dov'è che abbiamo tutto sto cazzo di potere se non abbiamo neanche tante donne in politica dove sta tutto sto potere io non lo vedo e poi finalmente qualcuno è stato un uomo io gli volevo baciare il culo e ovviamente dai cattivi verrà considerato che lui ha detto queste cose perché vuole farsi scopare da qualcuno già perché noi la diamo via al primo che ci dà ragione non ci viene in mente che magari qualcuno ha qualche strategia non mi verrebbe mai in mente io che sono completamente paranoica e stressata secondo qualcuno è perché quelle persone non vogliono criticarci vogliono cioè non vogliono migliorarci vogliono criticarci sì ma non migliorare se stessi e quindi se ne vanno in paesi dove la donna all'inizio non li conosce quindi si sente dirà ma sei bella sei gnocca così cos'ha loro non sono abituati abituate culturalmente a ricevere complimenti quindi dopo di che il 90% di loro divorzia e il ragionamento di questo deficiente di 50 anni ah ma almeno me l'ha data sì ma adesso ti odia ti sta prendendo per i coglioni cercando di avere più soldi e se tu non paghi gli alimenti quella ti manda la polizia a casa fatti un po' tu i conti sembri un coglione ecco un bacio a tutti e scusate per le dimostrazioni matematiche che fanno schifo un po' tu i conti